29 giugno 12. Eletti, amici cari, confidate in me ciascuno di voi si prepari al mio ritorno che è certo e vicino. Sposa cara, il mondo del terzo millennio non è pronto per accogliermi? I cuori si sono induriti e le menti sono svagate, ma io, io, Gesù, vengo nel giorno, che nessuno aspetta. Mi dici dolce amore, il tuo ritorno è pensiero dolcissimo e traguardo meraviglioso, ma gli uomini poco pensano e poco si preparano. Dolce Gesù, vedo che tutti gli uomini procedono in grande fretta, come se dovessero raggiungere un traguardo bello ed importante, ma, in vero, la gran parte non sa dove vada procede in fretta, senza riflettere abbastanza. Vorrei, Santissimo, che tutti si preparassero al tuo ritorno e nessuno restasse nell'inerzia. Negli intimi colloqui mi hai rivelato meravigliosi segreti, che tengo ben stretti nel cuore. Vorrei dire ad ogni uomo della terra non perderti in cose vane, ma preparati al ritorno di Gesù, che è certo come l'aurora, dopo l'oscura notte è vicino molto più di quanto si possa pensare. Santissimo Gesù, se si parla del tuo ritorno, gli uomini sorridono, come si fa quando si parla di cosa sì, certa, ma tanto lontana. Nessuno prende sul serio il discorso, perché pensa il ritorno di Gesù Santissimo è certo, è certissimo, ma ancora lontano, lontanissimo. Tu, dolce amore, mai hai voluto dire quando e come del tuo ritorno, hai fatto questo con somma sapienza, ma l'uomo si è ben scordato le tue parole, le ha lasciate portare via dal vento della sua leggerezza e superficialità. Vedendo ciò che accade nel mondo e la generale stoltezza, il tuo cuore, meraviglioso e tutto amore, ha voluto mandare sulla terra per lungo tempo la Santissima Madre, che annuncia le cose più belle, come fece Giovanni Battista, che annunciava la tua venuta sulla terra come Dio uomo, Santissimo Dio e vero uomo. La Madre parla con voce suave e chiede ad ogni uomo di accoglierti nella sua vita perché sia lieto ed in pace. Vedo la Madre del Cielo, come stella lucentissima, che indica la strada verso di te, penso come l'amato Giovanni, il Battista, ha annunciato la tua prima venuta, così la Madre Santissima annuncia un evento splendido e grandioso e chiede ad ogni uomo di essere pronto per l'incontro con te, Gesù. La dolce Madre annuncia cose stupende, ma trova un mondo svagato e distratto. Santissimo Gesù, tu, certo, verrai un giorno, come annunciato e promesso, ma chi troverai pronto? Chi pensa al tuo ritorno? Chi si prepara, come si fa con un esame tanto importante? Passano i giorni, gli anni e si avvicendano le stagioni, ma gli uomini non mutano comportamento. Tu verrai, dolce amore, ma chi troverai ad accoglierti? Ci saranno i timidi uccelli dell'aria con il loro cinguettio adorante. Ci saranno i fiori più belli, che sbocceranno sotto i tuoi piedi. Ci sarà il volo di candide farfalle e bianche colombe. Ci sarà nel mare il guizzo felice dei pesci. Ci sarà il più splendido sfabillio di stelle, la luna, poi, sarà così bella e splendente da sembrare il sole. Nasceranno dalla terra sorgenti di acque fresche e limpide. Questo ed altro accadrà, ma dove saranno gli uomini? Vedrai un piccolo resto, spaurito, venirti incontro, perché ha creduto in te. Sposa cara, io, io, Dio, non vado alla quantità, ma alla qualità. Va col pensiero al passato l'intero genere umano, che ora è di miliardi e miliardi, non è partito dal poco? Sposa cara, ciò che ho fatto non potrei tornare a fare? Ti dico che le anime adoranti vedranno cose stupende, mai viste sulla terra, ma i miei nemici tutti spariranno in un istante, come si scioglie la neve sotto il forte sole, come se ne vanno le nuvole nere, spinte dal vento. Che giorno stupendo, sposa mia, sto preparando per l'umanità adorante. Giorno grande ed unico, che nessuna fantasia può immaginare, neppure lontanamente. Sposa amata, ripeti al mondo, che occorre prepararsi presto, senza indugio, tutti, senza che alcuno manchi. Resta, felice, nel mio cuore. Tutto ciò che ho promesso avverrà. Ti amo. Vi amo. Gesù. La mamma parla agli eletti. Figli cari, piccoli miei, siate pronti per Gesù. Sono vicina a voi per prepararvi, come si fa col figlio, che deve fare il sublime incontro con Gesù. Capite, piccoli miei, capite che tutti dovete incontrare Gesù? Nessuno viva nell'indifferenza e nell'impreparazione. Pensate a quando vi preparate per incontrare una persona molto importante cosa fate? Non curate bene la persona? Non pensate alle parole da dire? Nessuno si presenta vestito di stracci, ma ci si veste bene e ci si cura per fare bella figura. Figli amati, vi chiedo di prepararvi, giorno dopo giorno, all'incontro con Gesù, il Giudice Perfetto, ma anche l'Ere dell'Universo. Voi vi chiedete nel cuore come devo fare? La Madre del Cielo vi dice con l'obbedienza alle sue leggi, con l'adorazione al suo cuore. Questa è la via maestra. Figli, siate attivi e diligenti, nessuno dorma o indugi, perché questo è il tempo delle sorprese meravigliose di Gesù. Uniamoci per lodarlo, ringraziarlo, adorarlo. Vi amo tutti. Ti amo, Angelo mio. Maria Santissima